Grazie dell'invito, io sono vicino da tempo ormai alle problematiche della situazione, un po' perché da sindaco le ho vissute sul mio territorio, sono stato sindaco a Marino per tanti anni e devo dire, lo dico a voce bassa, alla procura sinceramente non ho mai dato molto retta quando mi hanno detto di te, ma io non sono sicuro. Dico ai sindaci che avendo fatto per nove anni, attenzione a cadere nella provocazione della procura che scrive e dice, devolite acquisite perché ho sempre risposto, ditemi voi dove mando le famiglie e poi lo faccio. Quindi questo è il primo aspetto che sia importante. Io sono stato invocato da un magistrato allora, chiedendomi perché non ponevo in essere le demolizioni, ho risposto esattamente come ho risposto adesso. E devo dire che anche la promura che va avanti con questi procedimenti e questi fascicoli dove purtroppo dentro ci sono nomi e cognomi di famiglie, di storie, di problematiche, poi alla fine devono accettare la territorialità e un sindaco democraticamente eletto dai propri cittadini. Quindi questo credo sia il primo aspetto. Dopodiché l'aspetto, al di fuori delle cose che ho sentito e che sono tutte assolutamente giuste, quindi non le ripeto perché è chiaro che dobbiamo lavorare in quella direzione, abbiamo preso un impegno con Cristina che non ho mantenuto, di formare un tavolo tecnico importante. Non l'ho mantenuto perché la persona che dovrebbe aiutarci in questo tavolo tecnico ha avuto un po' di giorni di problemi, mi ha interromponato oggi e poi l'avvocato la titola, un urbanista molto nuovo, e si è reso disponibile, mi ha chiamato Giorgio a presiedere questo tavolo per studiare quelle che possono essere o la nuova legge regionale, qui la sfida che dobbiamo portare avanti, diciamo che la legge regionale è inutile che ci giriamo intorno, ci dobbiamo assurre, la responsabilità di dire che la regione può legiferare in questo senso e prendersi la sua responsabilità rispetto ai condoni. Chiaramente, come diceva Bruno, ci confrontavamo prima, è chiaro che cambiando due righe sulla norma del condono nazionale, cioè il condono è procedibile una volta che sia in un'osta paesaggistica, non improcedibile dove c'è una zona vincolata, perché i nostri castelli sono totalmente tutti vincolati, a quel punto si riapre la speranza per 190.000 condoni in provincia, nel Lazio. Nel Lazio sono 190.000 domande di condono del 2003, depositate improcedibili, io a Marino ce ne avevo 1.400 improcedibili. Quindi parliamo di un problema sociale che è enorme in una situazione come quella attuale, dove sentiamo di tutto, sentiamo famiglie senza casa, problemi con le case popolari, l'altro è che non costruisce. Chi c'è a casa ne lo andiamo a punto giù, perché giustamente in Italia siamo un paese fatto da questo. Non credo che ci siano troppe parole da spendere, anche perché non è neanche il momento di pensare di attrarre applausi rispetto a quello che si dice. Io credo che bisogna crederci veramente, cioè bisogna essere uniti, e questo è un appello che faccio a Bruno, a Zingaretti, la regione può tanto, può tanto in questo senso, cioè ovviamente seduti e studiare seriamente una norma che metta intanto in condizioni comuni, attraverso quella norma di poter frenare le demolizioni e le acquisizioni e poi manifestare seriamente questo sì. Io credo che indoppiamo, e questo è un appello che faccio a voi, e ce l'erò per primo, andare a manifestare sotto il governo centrale, perché il governo con due righe, con due righe, riesce a riaprire la speranza per 190.000 puntori nell'Azio figurate in Italia, quindi tavolo tecnico per studiare, realmente vedo Gianni Cerini che è un esperto in materia, poi credo che per lui parlerà perché ci sono soluzioni già applicabili, la regione che può andare in questa direzione, io ricordo che sul primo piano casa venne affrontato il discorso della doppia conformità, poi venne stranciato nel rinnovo del piano casa, dovremmo riprendere, ve lo ricordo io, perché mi ricordo che c'erano una serie di casi con allora ciocchetti in cui case abusive che il piano regolatore rendeva poi con la zona edificabile, era inutile debolire, creando un danno ambientale perché poi porto i carcinacci e ricomincio per poi ricostruire, allora perché si usa la possibilità, cioè dove la conformità di un piano regolatore di un nuovo strumento urbanistico permetteva di avere quella combattura veniva rilasciata, la conformità avuta e basta, premesso, il genio civile, i vari risismici e tutto quello che serviva, però andrebbe ripresa anche in quel senso, perché poi il perocase è stato purtroppo utilizzato in maniera restrittiva, dovremmo capire se su questa roba della rigenerazione urbanistica che stiamo avutando se si può inserire anche un qualcosa in questo senso, perché risolverebbe una piccola parte di problemi, chiaro e concludo che il grosso è legato ai condoni del 2003, perché lì la partita è enorme e coinvolge tante e troppe famiglie, in quel senso due linee del governo e una legge regionale fatta bene che vada nella dimensione non di dare l'impressione che facciamo gli abusi tanto poi saniamo tutto, questo non deve essere il senso, il senso però deve essere quello di dire prendiamo la fotografia dell'attuale e in una situazione di disagio nazionale e sociale, perché i problemi economici li vediamo, li sentiamo, li viviamo tutti, non ci possiamo permettere di demolire o acquisire milioni di euro di case divise da tanti cittadini che faticosamente le hanno costruite, ecco questo deve essere il risorso.